Gli scrittori non sono ricattabili. Con questa frase Marcello Fois, uno dei più importanti scrittori sardi e italiani, ha chiuso ieri sera al Vecchio Molino un intenso incontro col pubblico per la rassegna di Entula. Il Festival Letterario Permanente ha ospitato all'interno del suo programma diversi autori nell'ultima settimana e Fois rappresenta senz'altro uno dei più significativi. L'occasione è stata l'uscita di Pietro e Paolo, ultima fatica dell'autore norese. Il libro, una riflessione sull'amicizia e sulle conseguenze funeste della guerra, ha fornito l'assist per una conversazione, moderata dal regista Sante Maurizzi, che ha analizzato il passato e l'attualità con alcune importanti considerazioni non solo letterarie. Fois, che oltre a scrivere è anche docente, non si è tirato indietro sul problema scuola, a costo di risultare conservatore. Gli studenti devono riscoprire il significato della parola fatica, ha detto l'autore, che ha pure proposto corsi di entusiasmo per i professori. Fois si è soffermato sulla lotta, esistente da sempre, ma in particolar modo nell'ultimo ventennio italico, tra il partito dell'intrattenimento e quello dell'informazione. In un affascinante escursus tra i secoli, ha peraltro dimostrato come la situazione di oggi, in merito al lettore idiota, non differisca da quella descritta nel 1300 da Boccaccio. Un'ultima parola è stata pronunciata sugli scrittori. Questi, insieme ai politici e agli insegnanti, se vogliono far bene il proprio lavoro, devono rischiare l'impopolarità.